Il giorno della gara è il giorno più importante tutta la settimana perché è quello che dà i frutti di una settimana di allenamento, di impegni e di sforzi. Sono tutti ragazzi della stessa bravura. Far parte del Campus Italia per me vuol dire che qualcuno ci crede in me, qualcuno mi ha visto, dare il massimo anche. È veramente bello lavorare con loro. Terminato il tempo dell'adattamento, per i ragazzi del Campus Italia è il momento di misurarsi con il campo. Allenamenti, partite e soprattutto campionato. La Serie A2 chiama con nuove sfide e banchi di prova. Per i giovani talenti della Campus Italia questo vuol dire crescere, sbagliare, imparare a vincere e a riflettere sulle sconfitte. Vuol dire percorrere giorno dopo giorno la strada che porta ad un futuro con la maglia della nazionale. Là negli spogliatoi c'è la massima attenzione e concentrazione e poi in partita si cerca di dare il tutto per tutto. Quello che fa più casino e ci fa passare l'ansia è Paoli. Paoli sicuramente è quello più ignorante fra di noi, ci fa divertire, toglie tutta la tensione e ci fa vivere le giornate con spensieratezza. Saremo soddisfatti se abbiamo creato un gruppo? Innanzitutto, credo. Cosa mi sta insegnando la 2? È un campionato difficile. Cercheremo mese dopo mese di inviargli i propri video per fargli vedere dove hanno migliorato, dove possono ancora migliorare, cosa devono fare. La diana, se siamo sicuri, vale, se non se la prende ti puoi fermare perché non c'è problema. Qui noi vogliamo la profondità poca, massima invece compattezza, compresi i numeri 2 di Regno e Fragnito. Quando ho scoperto che Marco Zanon si è fatto male, subito pensavo anche che io adesso dovrò giocare tantissimo e dovrò giocare anche bene, che dovrò sentire la responsabilità che ho su questo ruolo. E poi quando anche poi in medicina si è fatto male sono diventato pure capitano. E questo è stato anche un grande onore per me, ma anche una grande responsabilità per mandare tutta la squadra alla vincita. Grazie a tutti. Stai back. Questa esperienza mi sta dando tanto anche perché la competitività parte da dentro e non dal campionato in sé perché sai che devi competere contro un altro tuo compagno di squadra che comunque sono forti. Il video prima della partita è molto importante. Lavoriamo molto più su noi stessi che sugli avversari. Principalmente facciamo le nostre cose, il nostro sistema difensivo, il nostro sistema di attacco e vogliamo migliorare su quello, che poi sono gli stessi sistemi, lo stesso gioco d'attacco che ha la nazionale segna. E non esiste che qualcuno ti passi avanti. Spingi, prendi questa palla e vai dentro, guarda. Ma comunque sia Maione che Treline sono allenatori fantastici e sono belli da vedere insieme. E' sempre bello fare gol perché, diciamo, quando vedi tutta la squadra, tutta la tribuna che ti esultano, quando li vedi come ti rirono in faccia, sei sempre felice. E' sempre un'emozione incredibile fare gol. Vedere altri compagni di squadra che ti dicono bravo, dicono siamo sicuri che questa partita la vinciamo. E' un'emozione. Comparaggio, primo, due, tre, quattro, cinque. Cioè è rimasto là, l'unico che dovrà rimanere là perché ha tirato e è rimasto per terra e abbiamo cinque persone che sono andate indietro e abbiamo giocato la palla. Questo è meglio di un gol. Sicuramente, per noi, certo. Per voi pure. Questa è voglia di giocare la palla a mano, voglia di non perdere, voglia di prendere la palla e dire qua siamo noi, quelli che comandano. Ed è perfetta questa cosa qui. Qui nessuno ci dice niente della classifica o di queste cose qua. Quello che non è accettabile è che voi giocate col freno a mano tirata. E' logico? Sono arrivate tante sconfitte, ma piano piano stanno arrivando anche le vittorie e ne arriveranno tante. Questa è una promessa. Vuol dire che dovete essere intraprendenti E' uno che è Ourc? Ok funziona la prima stavola. Ciao ciao. Un'occiente. 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 Ciao ciao!